Assessore Pepe, si parla oggi in conferenza stampa del centro agroalimentare La Valle del Pescara, ci sono delle importanti novità? Sì, nel 2014 quando la giunta d'Affonso si è insediata la società era in liquidazione dopo due anni di risanamento. Il bilancio 2016 è stato chiuso addirittura con un utile di 5.000 euro. Io voglio ringraziare il consiglio di amministrazione, i professionisti che si sono messi in campo per portare avanti questa azione di risanamento, ma insieme a loro i grossisti, gli operatori di quell'area così importante per l'agricoltura abruzzese e per il commercio ortofruttico abruzzese. Grazie anche a questi risultati le prospettive ora sono sicuramente interessanti. Ma io penso che quel mercato possa svolgere un ruolo importante non solo per la Valle della Pescara, non solo per l'Abruzzo, ma io penso per l'Adriatico. Un hub fondamentale per dare un futuro importante ai nostri prodotti agricoli e in particolar modo all'ortofrutta abruzzese. Lì operano sia grossisti, sia dettaglianti, sia agricoltori. Vorremmo che quelli diventassero una comunità importante al servizio dell'agricoltura abruzzese. Sin dal vostro insediamento come giunta regionale avevate puntato fortemente sul rilancio di questa struttura? Sì, sono stati due anni molto impegnativi. Siamo usciti innanzitutto dalla liquidazione, la società è stata portata in bonus e poi dopo una serie di interventi con il Comune, con l'erario, con le banche, con i fornitori attualmente abbiamo un'azione assolutamente sostenibile. Abbiamo ripreso tanti servizi che prima erano in capo ad altre società e attualmente abbiamo impiegato nove persone.